Abbiamo registrato una disponibilità di poste italiane a vedere incontro alle esigenze prospettate dei sindaci, saranno immesse in servizio delle unità aggiuntive per soffrire alle carenze strutturali o a carenze connesse a situazioni di malattia o comunque di assenso dal servizio delle unità. Accanto a questa disponibilità che permarrà tanto alle dichiarazioni anche laddove queste assenze dovessero continuare, occorre però che tutti i cittadini e soprattutto i sindaci partecipino collaborativamente al momento della distribuzione, cioè regolarizzando quelle che sono sia la toponomastica sia lo stradario e l'inserimento di numeri civici vuole da rendere più agevole e più funzionale il servizio, però fondamentalmente è importante il risultato raggiunto, cioè le missioni in servizio di nuove unità che serviranno proprio a fronteggiare le esigenze che sono venute. Il primo risultato sarà quello di smistare quanto di aver fatto e si è avvenuta da fumare sino ad oggi.